Stasera è una partita difficilissima, senza recuperi perché diciamo che il coach di Franza è stata la prima pretattica per non dare vantaggi ma non erano disponibili nessuno dei due e poi l'infortunio di Giosa che ci aveva messo pure in difficoltà però in questo momento ripeto il gruppo è un gruppo veramente che sa andare oltretutto e abbiamo battuto una grandissima squadra, credo che è stata una partita dove siamo stati tignosissimi al massimo, siamo stati bravi anche rispetto alla partita corrente a sfruttare le nostre occasioni e quelle tre o quattro palle collo che ha avuto in Francavita è stato bravo Ioime dove non ci sono errori ma c'è anche la bravura dell'avversario non possiamo fermarci a questa partita ma dobbiamo andare avanti, già domenica c'è un altro spareggio Oggi sono stato anche molto fortunato forse su una terza o quarta parata dove la palla comunque l'ho tolta proprio dalla linea e lì c'è stata anche una buona dose di fortuna ma quello che contava è quello che conta e che siamo diventati squadra e non da oggi abbiamo dimostrato che in tutto il giorno di ritorno perdendo una sola partita a Trapani forse anche meritatamente e di conseguenza questo ci ha portato a crescere come dice il mister dobbiamo essere gruppo uniti fino alla fine e penso che siamo sulla buona strada